Ciao a tutti e benvenuti in questo video in cui vi andrò, come da titolo, a mostrare come scaricare l'ultima versione di The Forest, ovvero attualmente la 0.50. Quando starete guardando questo video magari ci sarà una versione successiva, ma comunque i link li troverete sempre aggiornati nella descrizione. Questo tutorial vi promette appunto di scaricare il gioco The Forest, l'ultima versione, attraverso l'utilizzo appunto del software Utorrent e in alternativa se me lo richiedete vi potrò mettere anche il link per scaricarlo da un sito senza passare appunto da Utorrent. E inoltre potete poi anche giocare con i vostri amici in multiplayer seguendo appunto tutti i passaggi che andrò a fare. Quindi prima di commentare dicendo che il multiplayer non funziona, seguite tutto il video e poi appunto potete commentare se proprio non dovesse funzionare. Ma se voi comunque seguite tutti i miei passaggi funzionerà perfettamente. Allora, per prima cosa vi dovete recare nel primo link della descrizione che sarà appunto The Forest Alpha Download 0.50 e appunto che è, ripeto, attualmente l'ultima versione. Poi andate a scrollare la pagina, ovviamente quel link lì che vi metterò sarà un link di AdFly e molti non sanno come si gestiscono, ovviamente vi basta cliccarci sopra e poi aspettare 5 secondi che troverete appunto il countdown qui in alto a destra e poi aspettare, appunto dopo aver aspettato i secondi, cliccare su Avanti. Poi vi troverete appunto su questa pagina di SkyDrove, che è il sito dove io solitamente prendo i giochi, scrollare la pagina in basso fino alla sezione appunto Torrent. Cliccandoci sopra vi aprirà quest'altra pagina e in caso questa non dovesse funzionare, cliccate appunto Another Torrent e vi aprirà comunque un'altra pagina, ma il procedimento sarà sempre identico. Quindi cliccando il primo link vi troverete su questa pagina e andrete a cliccare su Download Now. Vi appunto scaricherà questo file .torrent che facendoci clic sopra vi aprirà appunto utorrent che voi dovete già aver scaricato nel vostro computer e poi dovete andare a deselezionare questi qui oppure potete tenerli selezionati, non cambia niente, sono semplicemente file inutili per il nostro utilizzo e appunto lasciare selezionato però questo qui. Fare successivamente OK e poi andare, un trucchetto diciamo per velocizzare, tasto destro, forza avvio e poi ancora tasto destro, allocamento banda e fare alta. Fatto così appunto dobbiamo andare a scaricare tutto il gioco che pesa 806 MB e adesso la mia connessione andrà a 1,1 MB e quindi ci metterò circa 10 minuti, quindi ci vediamo appunto quando avrà finito. Ok, il download è terminato, quindi adesso ci basterà fare tasto destro, arresta e poi fare doppio clic e vi aprirà appunto la cartella dove ha scaricato il gioco. Poi dobbiamo andare a installarlo tramite 7Z PowerRAR, due che trovate i rispettivi download nella descrizione, vi basterà appunto avere o uno o l'altro, non entrambi. E fare tasto destro, nel mio caso appunto 7Zip e poi fare estraire file e andiamo a fare nuovamente OK. Qua appunto sta estraendo tutti i file di gioco, non ci sarà il file ISO quindi non dovremo andare a installarlo ma sarà già pronto per l'utilizzo. E mentre lo sta estraendo vi faccio vedere appunto, vi spiego e vi faccio vedere come appunto far funzionare il multiplayer. Allora, per prima cosa vi basterà recavi nell'altro link della descrizione che troverete appunto la Crack. Farò anche un video a parte in quanto molti serve semplicemente la Crack e non tutto il gioco quindi comunque lo farò in un altro video ma trovate comunque il link nella descrizione. Il link è sempre di Headfly, quindi 5 secondi e cliccate avanti e vi trovate sulla mia pagina appunto di Mediafire e dovete andare a cliccare su Download. Questa è appunto la Crack per The Forest che voi una volta che l'avete scaricata vi troverete questo appunto archivio qui RAR che nuovamente dovete andare ad estrarlo tramite 7zip e RAR quindi fare tasto destro, 7zip, estrai file. Io ovviamente già li ho estratti e appunto vi troverete all'interno questi file qui che adesso andremo a vedere dove e come applicare. L'estrazione ha appena finito, ho appena cliccato una cosa che non dovevo cliccare. E quindi ok, andiamo appunto nella cartella che ha estratto che era questa qui e andiamo nuovamente dentro, troviamo appunto la cartella The Forest e questi sono appunto tutti i file di gioco. Questi invece sono i file della Crack che vi ho fatto scaricare e vi basterà fare tasto destro copia ed incollarli qui dentro e poi ovviamente andare a sostituire tutte le cose quindi mettendo la spunta su sì e facendo sposte sostituisci. E come vedete appunto vi ha sostituito questi file. Poi però ovviamente per far funzionare la Crack quindi a multiplayer dovete anche, mi raccomando anche, aprire Steam. Indifferentemente da se lo avete o meno il gioco originale come nel mio caso che appunto ce l'ho, ma per giocare con un mio amico che non ce l'ha dovremo comunque aprire Steam. E appunto aprendo Steam si creerà dei file che vi permette a The Forest di fingere di avere il gioco originale e robe del genere che vi permetterà appunto la creazione o appunto l'unione ad un server già esistente. E quindi come vedete il gioco si è aperto, il Steam si è aperto insomma e quindi voi potete poi andare a fare tasto, dopo clic insomma su The Forest.exe vi partirà il launcher e poi andrete a cliccare play. Il tutorial quindi è comunque finito qui, io spero che vi sia stato l'aiuto e vi ho spiegato tutti i passaggi nel migliore modo possibile. e mi raccomando appunto il multiplayer assicuratevi di aver copiato i file e sostituiti e di aver aperto Steam. E niente, questo è il tutorial, io sono Ivots, lasciate tante belle mi piace e noi ci becchiamo nel prossimo video. Ciao a tutti!